Buongiorno. Desidera? No, veramente lei che desidera a me. Cioè, ti devo dire che l'amministratore del condominio dice che la parabola della televisione è leggermente orientata a destra. Beh, sa, col governo Berlusca, insomma, dovrei salire sul tetto. Sopra, sul tetto. Eh, purtroppo, lei la vede la televisione? No, non la vedo, mai. Eh, nemmeno io. Però che vuole, gli altri condomini la vogliono vedere. Prego, stai comodi. Ma faccia presto perché devo scrivere. Sì, sì, ma... Permesso? Prego, prego. Ecco, guardi, questa è l'antenna, vede un po' lei quello che c'è da fare, va bene? Facca, che vista. C'ho la madolina che sembra così che l'abbraccia. Senta, faccia quello che deve fare, io torno al mio lavoro. E quando ha finito mi chiama. Chi è? Lei, signor Sironi? Sono io. Sì, è sua la micro rossa parcheggiata qua fuori? Sì, perché, che è successo? Ma perché gli erano maccata. Io ho visto tutto, ho preso anche il numero di targa, ma l'investitore è scappato via. Sì, va bene, ci indomina la mente. Oggi è giornata, eh? Scusi, antennista, esco un attimo, la lascio solo per qualche minuto. Non si preoccupi, tanto c'è la madonina. Vabbè, va. Ma che l'hanno presa a martellate? No, è stato un gippone con una signora. L'ha sbandato? No, era distratto, andava forte, parlava al telefonino, non aveva neanche le cinture di sicurezza, era roba da levare i dici punti. Ma quali punti? Punti della potenza. Senta, a me non interessa nulla della patente. No, guardi, la patente è una cosa molto importante. Senza patente non si gira il mondo. Ma se sono sempre a casa a scrivere. Ma perché lei scrive? Signore di Continenza? Sì, che piano? Ultimo piano, lattico. Dai, andiamo. Anche la gomma mi ha bugato. Eh? La gomma. Ah, sì, sì, anche lo specchietto, sì, sì. Ma come ha fatto? Ora le racconto tutto. Stavo uscendo dal tabaccaio. Sì. Perché sai, io sono ancora uno di quegli ultimi pirla che fumano, no? Sì, anch'io. Anche lei è un pirla? Sì, per favore. Io stavo per attraversare la strada perché sai, io sono ancora uno di quegli ultimi pirla che prima di attraversare la strada guarda a sinistra, a destra, no? Il prologo è importante, per cortesia. Lei è uno scrittore? Sì. Dovrebbe saperlo. Va bene. Mi avviavo fuori dal tabaccaio. Prego, si accomodi. Guardi che terrazzo. No, guardi che meraviglia, eh? C'è la madonina che le viene proprio in braccio. Ma io a vivere qui mi sentirai una miracolata. Il miracolo è trovare il grano con quello che chiedono al mese. No, mi scusi, eh. 150 metri più cento di terrazza, visto l'uomo, il miracolo è che costa solo 5.000 euro. Ha ragione, Sandrino. È un'occasione unica. Beh, facciamoci un momento, dai. Eh no, mi dispiace, Sandrino, ma l'unica cosa che non abbiamo è il tempo per pensarci. C'è una lista d'attesa che non finisce più. Se vuole, staccare subito a segno e tutti a casa. Dai, Sandrino, stacca. Stacca, stacca. Questo vuole anche la cappara. La cappara. Tre mesi anticipati, al minimo, eh. Tre mesi anticipati. 15.000, uè, non sono mica bruscolini, eh. Sei il solito braccino. Poi non ti lamentare se viviamo in corso Buenos Aires, secondo piano vista muro. Dai, non fare così, su, fermati. Dove essere capricciosa come una bambina. Che numero era la targa? Potrebbe essere WC. Toilette. Vercelli. A chi lo intesto? A me medesimo. Che poi sarebbe lei. Puoi fare una bella girata? Anche in nero. L'importante è che non sia rosso. Comunque, se vogliamo ufficializzare, sono 7.500. No, 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 va bene così, in nero, in nero. Poi, ma a me cosa mi dà in cambio? Ma come cosa le do? Una bella ricevuta, no? E il contratto? Il contratto oggi pomeriggio alle 16 in agenzia e le do le chiavi. Grazie, Sandrino. Però basta, eh, con questa storia del braccino, eh. Eh, basta, signora, col braccino. Ti dia la manina. Faremo morire di invidia a tua sorella, perché l'ha menata tanto col suo villino a Milano 3. E invece noi, Madonnini in bocca. Ha scritto tutto? Sì, sì. E beh, scrittore. Sì. Grazie, eh. È stato molto gentile ad avvisare. Dovere. Grazie. Prego. Accidenti. Io me l'hai terminato. Sì, eh, me l'hai. Invece a me una stronza mi è venuta addosso alla macchina ed è pure scappata. Non è possibile. Sì. E adesso devo uscire a fare la denuncia. È che questa città è piena di mascalzoni. Sì, ma questa me la paga, perché fortunatamente Giù c'era un testimone che ha visto tutto. L'auto, la dinamica dell'incidente, la targa. È che lei sa, la Madonnina che la protegge. Sono io quella Madonnina. Vabbè, complimenti per il suo lavoro, eh. Grazie. Se riesco a finirlo. Ma il documento che ho messo. Ma quanto ci hai messo? C'aveva il braccino. Vai. Corso Polo Sares. Banca Popolare di Sondrio. Agenzia 7. Vola! Andiamo. Andiamo, che è tardi. Giacomi, ma che hai fatto? Ti sei già vestito da sciatore? Ci ha dormito con la tuta. Così domani mattina stai già in forma? Buongiorno, signor Gattone. Ah, buongiorno, signora Di Nardo. Buongiorno. Andiamo a sciare? No, andiamo al mare. Abbiamo messo il costumino sotto. Abbiamo acquistato una multiproprietà in Montagna Cortina. Ah, complimenti. Facciamo le prime due settimane di febbraio e poi le ultime due di agosto. Beh, straordinario. Residence bellissimo, nuovo di zecca. Beh, se avete bisogno di qualche tela mi venite a trovare in galleria, eh. Grazie, ma pare che sia già tutto arredato. Ah, senta, signor Gattone. Siccome si è rotto l'allarme, non è che per caso ci fa uno squillo lei al cellulare se dovesse accadere qualcosa, mentre siamo fuori? Ah, senz'altro. Sa che si può fidare di me. Grazie. Arrivederci e buone vacanze. Grazie. Benissimo. Che bello avere un vicino di casa così disponibile. Una buona, una buona persona. Questa è la fortuna. Così, buon uomo. Potrebbe indicarmi il Residence Miramonte. Ha detto che non lo sa perché qui è pieno di Residence. Ma il Residence Miramonte è nuovo, di recente costruzione. Che ha fatto sudo a Parvutto, Iedrio, Merinac e la Croves. Dice che hanno costruito dappertutto e hanno rovinato tutta la montagna. Ma è italiano, sì. Sì, sì. Perfetto. Puoi chiedere dove è la strada? Senta, la strada per località Cimasotto. Così lo so direi pure io. Allora, sempre diretto, voi chilometri in ante c'è tal cartel Cimasotto. Ah, dice che bisogna andare... Oh, carino, sotto. Hai, grazie. Di venerci, di venerci. Dovrebbe essere qua. Beh, sì. La montagna è la stessa. Gli alberi sono quelli. E il Residence è questo? No, cosa dici? Il Residence non c'è, Roberto. Ti dico che non c'è. Sì, sì, c'è la montagna, la neve, una vista stupenda. Peccato che il Residence non c'è. Grazie tant'erebbe il regalo, eh. Mi hai dato proprio una bella patacca. Scusi, che tipo di patacca ha avuto? Quella. Anche voi la prima quindicina di febbraio, eh. E la seconda quindicina di agosto. Ah, quindi l'avete preso in quel posto due volte. Noi solo in febbraio. Ma il Residence veramente non c'è. Le sembra di vedere un Residence? C'è un Residence qui? Ma io ho pagato 40.000 euro. Io invece solo 36.000 perché è risposta a nord. Beh, il culo. Eh. Certo che solo a te succedono certe cose, eh. Solo a me. Adesso telefono. Faccio uscire meravigliamente il Residence. Già fatto. Ho provato anch'io. C'è un disco che continua a ripetere che il numero non è attivo. E a quest'ora l'agenzia l'avranno già sbaraccata. A quest'ora si stanno già mangiando i vostri soldi. Eh, papà, non infierite per piacere, eh. Ladri vigliacchi, ladri vigliacchi schifosi, ladri vigliacchi. Scusa, Walter, ma il Residence dov'è? Scusi, il Residence Miramonti. Benvenuto nel club dei pataccati. Pataccati. In che senso pataccati, scusa? Nel senso che fa parte anche lei del club. E lei chi è? Un presidente. Luigi Miracolando, tu non mi hai mai portato qui. E con mia moglie... Acqua in bocca. Bravo. Provati un posto. Poi ti chiamo. L'ufficio denuncia? Al secondo piano. Grazie. Lei è al rispetto. Eccoci qua. Una bella firmetta per uno, per favore, lì, dove c'è il segno. Senta, commissario, secondo lei, quante possibilità abbiamo di acciuffare questi truffatori? Statisticamente poche. Andiamo bene. Invece realisticamente? Ah, realisticamente anche meno. Ma scusi, ma allora che l'abbiamo fatta fare la denuncia? Quinto. Rimane agli atti e poi va ad incrementare l'archivio. Pensi che queste sono solo le prime due settimane del 2004? Non ti preoccupare, amore. Il Residence non li contro. Ma cosa vuoi che me ne importi dalla casa in montagna? Io vorrei altre cose da te. Mamma, io ho fame. Dai, pazienza un attimino. Beh, io stamattina ho preso soltanto un caffè e latte. Uno stuzzichino, è vero, non ci starebbe male, no? Papà, ma come fai a pensare a mangiare in questa situazione, eh? Io ho lo stomaco che è tutto un nodo. In fondo, suo padre ha ragione. Se volesse proprio una bella pizzetta. Suocero, suocero, non è mio padre. Comunque teno fam. Beh, allora se avete fam, venite da me, no? Eh, a un ristorante proprio qui vicino. Dai, ci mangiamo una cosa tutti insieme. Fate anche le patatine fritte? Certamente. Con il ketchup. Ketchup. Un po' scusso, male. Fate anche la pizza? Pizza. Con la bufala? Bufala. Buono, veniamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Che facciamo? Andiamo anche noi? Come faccio? Per uscire ho dovuto inventare una balla pazzesca. Dai che mangiamo. Ma certo, perché per me non ha mai tempo. Monica, ti prego. Pensavo fossi in montagna, non mi sono organizzato. Va bene. Ragazzi, aspettate, arrivo anch'io. Vita d'inferno la doppia vita, eh? Anche lei. Eh, magari. Con lo stipendio che prendo non riesco a farne una di vita. La vita è una truffa continua, dal giorno in cui nasci fino a quando ti mettono sotto terra. Se non sai truffare, soccombi. Sopravvive solo chi fotte il prossimo. Più fotti, più cambi meglio. Sì, diciamo che non è il modello di vita della gente per bene, eh. Vive meglio chi fotte un. Eh sì, parole sante. Io faccio il chirurgo plastico, no? E onestamente, devo dire la verità, ho sempre fatto del bene al prossimo. Ma lei le fa le fatture? Se me le chiedono, le faccio. Ma devono proprio minacciare, insomma. Senta, guardi, non è il momento. Eh, è un brutto periodo questo qua. Ho perso quasi tutti i clienti. Sei mesi fa ho avuto un incidente sul lavoro e... Oh, e vi siete fatto male? Ma no, non io. Una mia cliente attrice. Le avevo rifatto le tette, no? Poi se n'è andata in aereo e durante il viaggio gliene è scoppiata una, mamma. È pericolosissimo. Per che cosa? Per la decompressione dell'aereo. Stai zitto. E poi cos'è successo? È successo che mi ha denunciato. Poi è andata in televisione da questo qui, no? In pi 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 pi, nye 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 nye, mi ha rovinato, va bene? Non ho capito? Chi è quella nye 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 nye? Il conduttore, che cosa fa? Eh, bravo, quello lì. E poi tra l'altro non era neanche scoppiata proprio veramente del tutto. Un po' a terra, stai. Diciamo si era un po' adagiata, ecco un po'. Sgonfietta. Certo, esatto. Tutta una montatura per farsi pubblicità. Tutti imbroglioni. Non c'è salvezza. Ma come mai il colonnello mangia da solo? È perché... È perché... Eravamo in cedici e siccome il mio genero è superstizioso... Allora io mi sono, no, insomma, messo... Ma non fa niente, non fa niente, va bene così. Alla salute, la salute di tutte, la salute. Alla salute. 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 Dai, Lionella, andiamo. Veronica si è addormentata. La prendi tu in braccio? In braccio la prendo. Sì, facciamelo andare. Era parola. Ho già due erni. Andiamo, amore. Vabbè, andiamo. A proposito, se doveste avere notizie positive sulla multiproprietà, fatevi sentire, non abbattetevi e soprattutto stiamo uniti. Signor Fabio, com'è il suo cellulare? C'è male, ce lo dà un annetto. No, signore, volevi il suo numero. Ah, certo. Mi dà il suo numero? Sì, è tre... Sì, è tre... Sì, sogni d'oro. Questa è la mia fregatura. È una fregatura sentimentale e sono quelle che non passano mai. Giacomino? Giacomino, dove sei? Tardi? Eccomi, papà. Prendi la banana. Questa banana prima madina. Dagli il cappuccino qualche volta. Vabbè, ma gli fai l'acido. Grazie, la zuppa banana ind. Andiamo, andiamo. Giacomino, la sciarpa! Mamma, guarda! Alle manette! Come il distratto di polizia! Ma che ha fatto? Diceva che si occupava di quadri, che era un gallerista. Invece un gran truffatore, tirava i bedoni. E di meno pure lui. Cosa da pazzi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, che faccio? Lascio pure la macchina qua. Ma siamo in terza fila. Tranquillo. Guarda che c'è il vigile che fa le multe. Tranquillo. Questi levano i punti. Quando sono fornuti mi dai tu? Come, ma lì molti non si prendono. Tranquillo? Tranquillo. Ecco, dottore, anche oggi è andata. Niente multa. Bravo, Omar, sei una sicurezza. Ciao, Di Nardo. Buongiorno. Come mai sei qua? Non eri andato in settimana bianca? Sì. Ma poi è diventata nera? Nera? In che senso? Lasciamo perdere, per favore. Ti girano, eh? Uh, al centrifuga. Di Nardo? Sì, direttore? Puoi venire un momento del mio ufficio? Vediamo parlare. Subito. Centrifuga. Risciacquo. Mi ascolti bene, Di Nardo. Tra cinque minuti esatti aprirà il servizio di consulenza al pubblico. Lei si sente pronto? Io o meno sì, ma per che cosa? Lei è responsabile dei rapporti con la clientela? Certamente, direttore. Allora è molto probabile che tra poco lei sarà assalito da una polla di gente inferocita. Ma inferocita con me? No, con la banca. Beh, che fa allora? Ma scusa, ma lei non ha sentito la radio stamattina? No, perché? Che cosa è successo? Ci sono notizie catastrofiche dalla borsa di Johannesburg. Sono crollate le azioni della Devers. Ma mica i diamanti? Sì. Il fondo scudo che abbiamo spinto negli ultimi mesi per i nostri correntisti? Esatto. È crollato? Quasi a zero. Porca puttana! Ci eravamo appena salvati con la barma, là. Calma, Di Nardo, eh. Non perdiamo la calma. E lei faccia ricorso alla sua consumata diplomazia. Madonna mia, non ci posso credere come è possibile. Come cazzo è possibile? Ma Di Nardo è impazzito. Non è una tragedia, direttore. Con un guai troppo grande. Come si fa adesso? Io posso capire il suo attaccamento all'azienda, ma tutto sommato il problema non è suo. Invece sì. Fuori di convincere i clienti che era un investimento sicuro, mi sono convinto pure io e ho investito. La fangula, la borza, i diamanti, è tutto Sudafrica. Poi dice che una diventa razzista. Scusi, direttore. Di Nardo, muoviti. Non riesco più a tenerli. Un momento, arrivo. Cercate il capire. Ho detto tu un attimo, c'è un problema. Ma non c'è anche il suo spiego. Mi raccomando Di Nardo, diplomazia. Solo diplomazia. Nient'altro che diplomazia. Vada. Esce ancora sangue? No, purtroppo si è fermato. La belva della signora De Romanis ha preso la targhetta di Ottone con il nome mio sopra e me l'ha data proprio di taglio. E ha fatto benissimo. Come ha fatto benissimo? Eh sì, perché con tutto quello che succede in questo paese è soltanto un deficiente che lavora in banca da trent'anni e è capace di investire tutto in un fondo scudo in Sudafrica. Ma non lo senti come suona tarocco, scusami. Non urlarmi di strai il bambino, sta giocando. Eh ma sei un pirla. Eh ma non ti permetto di parlarmi in questo modo davanti al bambino, chiaro? Lo deve sapere anche lui che suo padre è un pirla. L'hai già detto prima, non glielo ricordare. Il grande finanziere lui, il nuovo Tronchetti Provera, ha sotterrato gli zecchini nell'orto dei miracoli, eh? Hai sbagliato l'orto, che posso fare? 150.000 euro in fumo, ma te l'avevo detto io. Il mattone, compriamoci una seconda casa, no? Io l'ho comprato in montagna e hai giocchiato un mattone in fronte. E infatti sei un pirla! Che ci posso fare io se viviamo in un mondo di ladri schifosi? Ma non volete smettere di urlare in questo modo? Basta! Ma chi è? Ladro dei quadri? È tornato stamattina. Ehi, ma che sei tornato? Che è la quale che fai stamattina? Com'è che già è tornato a casa? Perché ha gli arresti domiciliari. No, 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 una terribile condanna! Ti arrestano, dopo 12 ore ti fanno tornare a casa con l'autista, ti fanno dormire nel tuo letto, vedere la tua televisione, lavarti nel tuo cesso e se è necessario bussare al muro per zittire il vicino che alza la voce! Perché pare che a San Vittore non ci fosse neanche una cella libera. È normale, bisogna truffare un anno prima se ti vuoi trovare posto a San Vittore. Credo proprio che tu abbia sbagliato mestiere. Papà, perché non diventi truffatore anche te? Mi preoccupa, l'anno prossimo se è prenoto in tempo ci va pure papà a San Vittore. Buonasera. Buonasera. Desidera qualche cosa? Potrei entrare un attimo? Veramente non puoi entrare, no. E ha gli arresti domiciliari, lo so. Non può entrare nessuno, non posso ricevere telefonate. Però siamo in Italia. Eppure questo è vero. Poi gli agenti di controllo sono appena passati, ormai se ne riparano domani mattina. Mia moglie ha fatto il ciambellone. Ma che meraviglia. Dentro non c'è nessuna lima, ma è ottimo. Se vuole assaggiare. Fantastico. Prego, se è comodo. Grazie. Mi scusi, eh, per prima. Stavo dipingendo, mi sono infervorato, mi sono messo a urlare. Sì, figuranzi, eravamo noi che urlavamo. A volte, sa, tra moglie e marito. Non ci si mette il dito. Le voglio far assaggiare un'ottima grappa. Ringrazio, ma io sono un po' a stemio. Poi a quest'ora la grappa blocca lo stomaco. Ma se non ci si aggrappa a qualche cosa. Giusto. Aggrappiamoci. Questa l'ha fatta un mio amico ergastolano. Grappa al peperoncino. Ogni tanto ci facevamo anche gli spaghetti. Grazie. Complimenti, è veramente una bella casa, arredata con gusto. Non me l'aspettavo. Da un truffatore. Ma non ho detto questo. No, lo dica, lo dica. Per carità, non mi sarei mai permesso. No, lo dica, lo dica. Se lo pensa, lo deve dire. Ma lei è veramente un truffatore. Per lo Stato, forse. Ma io mi considero un artista. Però se lei pensa che gli artisti manipolano, trasfigurano la realtà, allora sono un truffatore anch'io. No, ma ti guardi. Figura. Né più né meno degli autori di questi quadri che vede qui in giro. Ma perché questi quadri non sono veri? Sono veri. Sono veri. Veri falsi. Veri, cioè? Cioè, falsi molto, molto veri. E anche quello che ha venduto a me è un falso molto vero? No, quello è una vera cagata. Ah, ecco. L'importante è che sia una cagata autentica. Assolutamente, un gentilogno in prima maniera. Non farei mai una sola a un mio vicino di casa. Volevo dire. Io ai miei clienti me li spizzo, me li scelgo con cura. Persone che hanno bisogno di illusioni. E io non faccio altro che esaudire i loro sogni. E poi li frega. E beh, i sogni sono sempre una fregatura, quando ci si sveglia. Peccato che sia finito pure il suo, di sogno. Com'è che poi l'hanno beccata? È colpa del mio complice, un imbecille. Stavamo facendo una piccola truffa immobiliare e sono risaliti a me. Ha beccato la truffa là del Residence Miramonti? Ma no, ma quale Residence? Villa Stupinigi. Ah. No, io non c'entro niente con la sua fregatura sull'Italomiti. E come fa a sapere proprio il posto preciso? Non ho capito, scusate. Come? Come faccio a saperla? Queste pareti sono sottilette. Qui si sente tutto, eh? Si sente tutto? È certo. Quindi ha sentito anche che io sono un pirla. E purtroppo sì. Mi dispiace. No, dico mi dispiace per quella fregatura che ha preso in banca. Si figuri ormai ci sono abituato alle truffe. Forse più di lei. Però com'è truffato? Eh beh, ma farsi truffare è facile. E truffare che è difficile. E lì ci vuole un certo talento, ci vuole vocazione. Brava, brava, esattamente. Lo sa qual è la mia vocazione? Bancario fesso ed onesto. Io se avessi solamente un pizzico del suo coraggio, della sua arte, lo sa che farei? Cosa farebbe? Che poi si fa niente. Con la faccia che mi ritrova mi beccherebbero subito. Eppure io vedo in lei, morfologicamente, artisticamente, una faccia da talpa. Io? Mia madre mi chiamava Topino. Talpa non me l'aveva mai detto nessuno. Eh beh, la stessa famiglia, sa. Un asetto pronunciato, un baffetto. Una talpa da banca. Un complice al di sopra di ogni sospetto. E secondo lei io veramente sarei capace di fare questa talpa? Assolutamente sì. E che fa la talpa? E la talpa scava. Scava, scava, scava. E quando la galleria è pronta, esce fuori e fa il colpo della sua vita. Da sola? No, la talpa non agisce mai da sola. Ha bisogno di complici. Persona normale o talpe pure loro? Artisti come me. O gente incazzata con la vita, come lei. Guarda, 800 posti. Un impianto d'olbi perfetto. Questo è un locale che fine dieci anni fa faceva tutto esaurito ogni fine settimana. La domenica sera era una festa. Poi sono arrivato quei connuti, gli americani, i multiplex, 22 sale. E sono stato costretto a chiudere. Non resta come un pazzo. Un pazzo, io non ci dormo la notte. Ottimo. Come ottimo? No, io nella sua situazione anche la truffa del Presidente Miramonti non è stata un tranquillante. Per favore non mi parli di quella truffa perché ogni volta che ci penso mi sale il sangue alla testa. Io perciò glielo sto parlando. È stata la più grande delusione della mia vita. È stato stato d'animo praticamente perfetto. Perfetto per cosa? Per fare una contro truffa. Contro chi? Contro il sistema. Ma qual lo sistema? Il sistema. Il sistema in cui viviamo, questo mondo di ladri che ci circonda. No, scusi ma aspetti un attimo. Ma che cosa hai capito? Io sono una persona per bene. Perché io no. Come vanno gli affari, eh? Ve lo dico io. Allora io tra tasse, iva retrate, cambiali, fornitori, ho debiti per 500 mila euro. Ah, faccia mia. È quasi un miliardo delle vecchie lire, insomma. Buono. Vabbè, allora se dovete fare i conti in tasca oggi non è giornata, ok? No, facciamoli, facciamoli questi conti. Con calma esaminiamo la questione nei minimi particolari e sfumature. Particolari, sfumature, questa ragazza è un miliardo di debiti. Quindi lei è un po' arrabbiato, lo è? No, arrabbiato io. Io sono avvelenato, incazzato nero. Perfetto. Magnifico. Perfetto, magnifico. Ma non è che per caso siete venuti qua a prendermi per il culo? No. Più che altro a salvarglielo. Professore, hanno suonato la porta. Ne aprono? Ma non avevamo appuntamenti oggi? Esatto, come sempre del resto. Chi sarà? Forse una paziente nuova che non sapeva della tetta scoppiata. Facciamolo la spiritosa, vado ad aprire. Corro, professore, corro. Mica tutti guardano il gne 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 alla televisione. Dai, dai, professor Lionello, che si risorge. Su. Avanti. Professor Lionello. Salve. Come va? Ah, siete voi. Cos'è, mi portate delle buone notizie sulla nostra multiproprietà? Eh? Hanno trovato qualche traccia? Gli han trovati questi figli di puttana? Questi porre stai ingazzati a denire. È perfetto. Allora, gli han trovati o no? Niente, negativo. Marco mondo lurido, schifoso. Ma che sfiga, però. Infatti la situazione è tragica, sta a Munguayada. Non c'è più niente da fare. Allora cosa siete venuti a fare? A proporle un'operazione di chirurgia plastica. Voi a me? Vai. Se le interessa, le rifacciamo il suo conto in banca. Dottor, glielo facciamo passare da così a così. È una sesta. Facciamo una quarta? Ha vista scoppiata da ote? Per essere incazzata sono incazzata, anche molto. Però sono una persona onesta, scusatela. Ma questo nessuno l'aveva messo in dubbio. Ma come? Mi state chiedendo di diventare una truffatrice? No, signorina Monica. Il fatto è che lei è fisicamente perfetta per il ruolo che noi abbiamo in mente. Quello di donna facile. Donna facile? Ma come si permette? Nicola si è espresso malissimo. Volevo dire donna facile nel senso di facilmente donna. E volevo dire quello che non l'ho detto bene, eh? Sì, lei è una bellissima donna, eh? Se lo faccia dire da uno che tra l'altro è nel ramo. Vi ringrazio, ma questo ruolo di donna facile non mi interessa. Anche perché non ne ho bisogno. Ricca? No, è ricco il mio lui. C'è già una truffa in corso. Vabbè, a questo punto noi andiamo via. Se avesse qualche ripensamento, il mio cellulare lo usi. Non credo. Comunque vedrete che un'altra donna facile la trovate sicuramente. Arrivederci. E buona fortuna per la vostra impresa. Non provocare una brutta assistica. No, non è paura. Ma sentite. Mi si è detto in corso la balena. Allora, io la grattatina mi ha già fatto, non si può mai sapere. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Ha finito? Dobbiamo entrare in ascensore? Ma chi è? Il suo lui, ricco. Quello che è venuto in quest'ora. Vedi, eh? Vedi, tante cose. Roberto, ma che ci fai qui? Hai lasciato tua moglie? No. È lei che mi ha cacciato di casa. Va bene lo stesso. Era cinque anni che aspettavo questo momento. Dai, amore, non fare con la faccia. Capisco che è stato un trauma. Ma vedrai che insieme si supera tutto. Sì? E questa come si supera? Che cos'è? La lettera del suo avvocato. Ti dico solo il nome. Bernardini De Pace. La piuttosta matrimonialista di Milano. Leggi, legggi. Siamo stati seguiti per due anni da un detective privato. Ti dico solo il nome. Miriam Ponzi, la figlia di Tom. Sto leggendo. Eh. Hanno in mano tutto. Fotografie, cassette e video dei nostri incontri, intercettazioni telefoniche, il contratto d'affitto di questa casa a nome mio e anche quel cazzo di contratto bidone del Residence Miramonti. E allora? Eh, allora. Sono in braga di tela. Hanno bloccato tutto. Conti in banca, carte di credito, stipendio, in attesa della separazione per colpa. E me la daranno, eh. Perché la colpa c'è. E sarei io la colpa? Ma cosa dici, amore? Tu sei la mia vita. Anche tu la mia. Ma siamo proprio poveri poveri? Insomma. Ti conviene lasciarmi. Trovatene un'altra. Ma sei pazzo. Non lo dire neanche per scherzo. Faremo due cuore e una capanna. Eh. Sì, però adesso... Chi la paga questa capanna? Deve essere la prima duffa seria della storia organizzata da persone per bene. E così ci date il premio Nobel. Eh, bisogna assolutamente trovare una donna facile. Ma è possibile che nessuno di noi ha una cugina o una sorella di facili costumi? Proprio in questo momento stai prezzando assoluto, lo sai? Allora, punto primo. I parenti vanno tenuti fuori da questa storia. Soprattutto le mogli. Obiezioni? Obiezioni. Niente mia mogli ormai ci schifiano. Siamo a buongiorno e buonasera. La mia, dopo il sci che ha detto, quando l'ho portata all'altare, non ha più interferito. Quindi, io oltre che essere figlio unico, sono anche single. Sono solo. Ma non hai visto che mi fanno bene esagerato, lo sai? Ma fossi pure orfano, voglio. Sei orfano, veramente? No, ma no, non è una volta. Ho detto lui, è lui che... Pronto? Non sono orfano. Ah, signorina Monica. È ancora valida quella proposta che mi avete fatto? Certamente. Che dici? Il destino si è divertito a muscolarmi un po' le carte. Ho perso la serenità. Quindi? Ci sto. Accetto. Signori, abbiamo stopposto. Sì, alla fine di tutto, avremo svolto i nostri ruoli, secondo il piano prestabilito, ad ognuno di noi toccherà qualcosa come un miliardo tondo tondo delle vecchie lire. Ma è un'idea geniale, signor Fabio. Lo sai che non me lo sarei mai aspettato da lei? Forse neanche io. Però adesso basta con questo lei, diamoci del tuo. E poi con calma esterneremo i complimenti a go-go. Certo che io con 500.000 euro risolverei tutti i miei problemi. 500.000 euro. Ma diciamo pure miliardo, un miliardo. Parli più soldi, parli più assai. Tanti e tanti auguri a tutti quanti. Ma siete pazzi a urlare in questo modo? Che ci può sentire qualcuno qua dentro, no? Qualcuno qua di... Ma chi ci senti? Che c'è un'anima viva. Sta sulla malingunita. Grazie per il coltello nella piaga che continua a girare, a girare. Ma buona ti preoccupare, che mo' con il miliardo ti passa tutta cosa. Ma come le... Scusi, devo dar del tuo. Come ti è venuta in mente questa idea? Come? Forse l'ho sognata, forse un sogno, sì. Poi una mattina mi sono svegliato e ho ritrovato tutto scolpito in mente, nei minimi dettagli. Ma va, con noi dentro. Con voi dentro, sì. Probabilmente ero talmente incazzato col mondo che l'inconscio ha lavorato per me. Comunque ragazzi, io avrei fatto quattro conti e vi comunico ufficialmente che per il nostro colpo, tra viaggi, alberghi e costumi, depositi in banca, ci vogliono almeno 30.000 euro. Chi ce li mette? Il danaro per la nostra missione ce li darà una società di assicurazione. Lei ce li dà così siccome gli siamo simpatici e affettuosamente. Ci tasseremo tutti quanti per un totale di 1.000 euro. 200 euro a testa. Io sapevo che un inghippo ci aveva sta... Stipuleremo a nome di uno di noi una polizia assicurativa contro infortuni. Organizziamo il finto incidente e intaschiamo i soldi dell'isarcimento. Io non ho capito niente di quello che hai detto, ma il fatto che intaschiamo a me mi piace. Ci sto. Basterà che il prescelto subisca un trauma di qualsiasi natura, purché sostanzioso. Ci sono volontari? Walter, posso avere un altro amaro? Mammo me lo calmo, non sto, ma che oggi proprio... Me ne porto un altro anche a me, che c'è sto riflusso, che non passa. Vabbè, non ci sono volontari, decido io. Possiamo anche tirare a sorte. Brava Monica. Tocca a te. Fare cosa? L'incidente. Il finto incidente. Sì, finto, finto, ma che ti strappa un po', finto. Così noi intaschiamo. L'ho sognato. Eh, voi? Eccolo. Allora? Ok, tutto opposto, ho firmato. Grande. Fase 2, allestimento incidente. Sì, però se io non vedo tutto chiaro in questa faccenda, non partecipo. Tibi e perone, 10.000 euro. Rodole e legamenti, 15.000 polpette. Trovato. Trauma cranico, 30.000 euro, perfetto. Perfetto, un paio di palle il trauma cranico. Oh, ma tu ho calma o no? Allora, Lionello attraversa disinvolto le strisce pedonali, mentre Walter arriva con l'auto. Ok. Io arrivo e ti punto a tutta velocità. Per finta, però. Sì. Poi quando sono attanto così, mi fermo. Anche prima. Se fosse possibile anche prima. A quel punto cadi per terra e, boom, batti la testa. Per finta. E vieni. Per finta. Sì, tutto per finta, ma una buttarelle le api via, sennò che chiamiamo a fare l'ambulanza. A quel punto noi che facciamo i testimoni, diciamo che hai preso una botta tremenda. Brava. E una volta arrivati in ospedale non dovrai fare altro che fingere di non ricordare nulla. Chi sei, di dove sei, che fai, di che sesso sei. È sempre buono, no? C'è. C'è un sesso. Referto medico, perizia, risarcimento danni. Uno più uno fa due. I'm a fatte, sort. No, no, no. C'è qualcosa che non mi convince. La perdita di memoria non è opinabile. Poi è difficilmente contestabile. In caso di trauma... In caso di trauma cranico vero non è opinabile. E c'è una buttarelle le api via. Per fingere meno. Ma io non so fingere, Monica. Fingendo si impara. Non voglio imparare. No, tu. La buttarelle le api via. Sì, ma piccolina però, eh. Scusate, c'era un traffico bestiale. Ma che fai? Eh? Che fai con questo? Eh, le metti in caso che non si fermasse in tempo. Eh già, perché un motore deve essere elettrici e poterlo con un caso che è in casa. Perché non può essere venuto col motorino. C'è leva di questo coso e fai l'uomo. Dai, che il motore è già pronto con la macchina. Senza perdere tempo. Ognuno è al suo posto. Andiamoci a questo tempo. Doveva essere solo un trauma cranico, per la verità. Secondo me il tuo risarcimento è pure senza buttare. Pronti? Ma qual è? Mamma mia, mi pare la mummia. Ciao, Leonela. Buongiorno signori, desiderano? Oh, Leonelo, siamo noi. Noi? Chi noi? Noi, noi, i tuoi soci. Soci? Quali soci? Forse con la botta in testa non ci riconosce. No, finge di non riconoscerci. Secondo il piano prestabilito. Bello. L'ha 1 defeatと思います. Bell Caio. No, non è bello, ha fatto un ottimo lavoro. Vuoi da qua. Mister è stato proprio perfetto. L'assicurazione ci darà sicuramente il massimo E quindi avrò il massimo Avremo il massimo Mi daranno il massimo Ci daranno il massimo Avrò il massimo Avremo Avrò Gianello, ti ricordi di noi, eh? I soci, ci quotiamo, 200 euro a testa Non ne ho di soci io, non ho firmato niente Non si ricorda, secondo me è sotto sciocco Secondo me è un figlio di zoccola Fattevano immediatamente la memoria Altrimenti ti facciavano un trauma cranico Che non dò scorda più Suora! Disgraziate la voce a te, però, eh? Suora! Ma che succede? Mi stanno agitando questi signori Signori, uscite per favore Un po' di rispetto per i malati Ma se sta meglio di noi Ma guarda questo Truffato re E non ti ha neanche un trauma cranico A me, ringraziando il Dio Ehi, ma Dio, vede e provvede, sorella E se esiste una giustizia divina Quanto prima provvederà? Devimo, vede, devimo, vede Ma signori, per favore, uscite per i maliere Che mascalzone col chirurgo plastico Cornuto? Dottronde, mai fidarsi di chi ti taglia E che prima o poi ti taglia fuori Certo Ho messo un aggiunto di peperoncino, eh? Vedrà che anche sua moglie mi ringrazieva Mi sono fatti fregare, va Il chirurgo più fesso d'Italia Ce l'ha fatto contro lo pacotto Ce l'ha fatto Mica avrà deciso di rinunciare, spero Per forza Ho la sfiga che mi ritrovo Come faccio il primo pass? M'arresto No, no, si figuri Chi è? La polizia Ma non è beccato No, 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 sono venuti per il controllo E dove vado? Si nasconda Dove? Faccio la talpa Come? Si metta sotto il tavolo Che scavo, la galleria? Ma quale galleria? Sotto, sotto Ma c'entro? Certo, un topino No, non ci respira qua sotto Prenda aria e vada i d'apnea Eh, arrivo Buonasera Sanve Controllo di polizia Oh, buonasera Sempre puntuali, eh? Vediamo un po' di ogni del suo solito autografo Certo, come no Via qua, puntato Prego Grazie Dov'è mai quei due bicchieri? L'ha fatto entrare qualcuno? Eh, no, assolutamente no Li ho preparati per voi Grazie, non possiamo Siamo in servizio Ma dai, su Sono due grappe fatte in casa Al peperoncino eccezionali Va bene, se insiste Lei ci corrompe, eh? Salute Buona, eh? Ottima Ecco qua Grazie Grazie Alla prossima Alla prossima, vi accompagno Arrivederlo, buonasera Vedete Alba Via libera Posso? Hai visto come sono fatto gli uomini? Eh, alla prima occasione diventano tutti corrupti Non tutti E comunque mai con una grappa Alla sotto ha fatto l'effetto peperoncino Che vogliamo fare adesso? Niente Senza i soldi dell'assicurazione la truffa non può partire Siamo tutti inguaiati, senza un soldo Facciamo una bella cosa I 30.000 euro li do io Come mi do a lei? Entro in società con voi Ah, non posso accettare 10% È un po' caro Eh, no Però l'idea della truffa è sua I diritti d'autore si pagano Ecco, 15.000 euro La prima tranche Ah E la seconda tranche è sotto pancia Complimento Vuole una ricevuta, no? Non siamo mica in banca Qui è la parola che conta Questi sono i primi 15.000 euro per le spese iniziali Successivamente avremo il resto Dove li hai prese? In banca Ma che li hai rubati? Ma che così cretino Ho chiesto un prestito Ah Ma scusa, sarà tutto così semplice? Perché abbiamo fatto tutto quel casino? L'assicurazione, l'incidente Quello in ospedale Signore, forse non mi sono spiegato bene Io per avere questi soldi Ho dovuto ipotecare la casa Se il colpo va male Me la portano via Chiaro? Scusa Allora hai fatto un bel gesto Sono un criminale Una persona per bene Vabbè, se avessi potuto L'avrei fatto anch'io Però qua ormai Già è stato tutto così ipotecato Anche il mio ristorante Grazie Fabio Sei un grande Come possiamo ringraziarti? Voglio il 20% in più Quanto? Un po' caruccio però eh Il colpo è mio Lo finanzio io I diritti d'autore si pagano Per me va bene Oh ma Vabbè Va bene proprio per me Ma quel bastardo di Leonello Come lo rimpiazziamo? Chi ci va ai Caraibi? A me non mi dispiacerebbe Però se ci vado io Poi il miliardario russo Chi lo fa? Beh, io ho stato guardato il corpo Quindi non se ne parla Poi bisogna sapere le lingue Io in inglese so solamente dire Yes, bonjour Io invece lo parlo correttamente Fluentemente E sta soffa Mi piace moltissimo Ai like i veri macci Ok? Ma non c'era detto che i parenti Andavano tenuti fuori Da questa storia? E che ci posso fare Se sta sempre dietro la porta d'origliare? Vabbè Sono pensionato Non ho nulla da fare Allora Ma ci possiamo fidare di lui? Giovanotto Lei forse non sa Che io sono stato Un colonnello di divisione Anche in gamba? Non so se ne sono spiegato Beh, in effetti È fidatissimo Penso che gli faccia pagare Tutti i conti correnti alla posta Le multe, le bollette Luce, acqua, gas Adastra, spazzatura Ha sempre portato il resto Perfetto Ha ruolato Colonnello Lei la domani farà parte Della nostra missione Fase 1 Entra in campo La donna facile del miliardario E lei come lo sa? A origliare Sta sembrare dalla porta Sta Buongiorno Buongiorno Sono venuta ad aprire un conto Purtroppo deve andare Dal dottor Di Nardo Grazie Grazie a lei Buongiorno Buongiorno Faccia me, complimenti Grazie, ma non è troppo Che troppo Sei molto, molto in parte Che cosa posso esserle utile? Sono venuta ad aprire un conto Che meraviglia, un conto Benissimo Qual è il suo nome? Monica Punto Monica Ma che fai? Mi dai il nome vero? Che scema Il mio nome è Maria Rossi Bel nome davvero Complimenti Signorina Pud Eh, Rossi Fai ingrugli apprisse a te E qual è la cifra che deposita? Lo sai benissimo I diecimila euro Che mi hai dato tu Io lo so Ma devono saperlo anche gli altri Dillo forte Deposito diecimila euro Oh, capperi Diecimila euro Bel gruzzoletto Ma non devi darli a me Devi darli al cassiere Ah, già Vado su Ma non adesso Che stai combinando Dopo al cassiere E che mi sono emozionata Non mi ricordo più niente Ma fateci in guicienda prova Voto totale Chiedimi del tasso Come va il tasso? Non c'è male Abbastanza bene Cresce Ma che stai dicendo? Il tasso di interessi Ah, già gli interessi Quanto mi date di interessi sul mio deposito? Insomma, 1,5% Signorina Ma che fa? Mi prende in giro? È il nostro tasso corrente E lei non può fare di più? Mi spiace, non sono autorizzato Ho capito Lei qui conta come il 2 di picche Eh, piano piano esageriamo È l'ultima ruota del carro Piano piano Stanno guardando tutti quanti Mi faccia parlare col direttore Stai facendo una figurine Guardi, facendo una piccola forzatura Io la posso inserire nella nostra convenzione per i clienti top Interessi sul conto 3% Grazie, direttore Lei sì che ci sa fare Ma le pare, signorina Rossi Noi siamo qua per accontentare i nostri clienti E vedrà che non se ne pentirà Perché io nella sua banca verserò molti soldini Ah, bene E se non sono troppo indiscreto Lei che attività svolge? Che lavoro faccio? Pubbliche relazioni Accompagno manager industriali a cena e dopo cena Sono disponibile anche fuori Milano per i weekend Ah, ho capito E guadagna bene? Diecimila botte Minchia Cioè, mi scusi, volevo dire Perbacco Sono top Mi scusi Vibra Pronto? Ah, ciao tesoro È un mio amico molto importante Prego Come? Arrivi a Milano stasera Fantastico Sì, ci vediamo da te alle nove Sì, nella sua presidenziale Da Svidania Coniglietto del Volga È un miliardario russo di nuova generazione Pensi che dicono che è un patrimonio di 4 miliardi di dollari Accidenti Ma che fa? Lavora nel petrolio? Non solo Costruzioni Pellicce Caviale E adesso sta comprando anche una squadra di calcio Ma non sarà mica per caso il proprietario del Chelsea Roman Abramovic? No Il mio russo si chiama Igor Rabinovich Mai sentito? Fra un po' ne sentirà parlare Io, Igor Rabinovich, miliardario russo No, no, non ci siamo Io, Igor Rabinovich, ruschi miliardario Ok Io, Igor Rabinovich, ruschi miliardario Io, Vladimir, buodi guarda miliardario Ma dai No, figlio mio No, scusa, scusa, per favore Per favore Ja Ja Vladimir Vladimir Te lo creerà niente Ruscovo miliardario Ruscovo miliardario No, si è esagerato Ruscovo miliardario E si è esagerato con le U anche prima quando dicevi buodi Ma quando mai? Buodi, no Devi, devi Ma io allora già c'ho la R Adesso anche le U Allora faccio la guarda del corpo Allora sto zitto Di cosa lo dà E niente E' meglio E' meglio, si è da me E' meglio Ecco E va bene Allora cominciamo con te E' meglio Ascolta me bene Per quanto sia Igor Rabinovich Igor Rabinovich Ruschi miliardario Ruschi miliardario No, ruschi miliardario Ruschi miliardario No Dobri drin, drucia Rasciudas E che hai detto? Benvenuti, amici Complimenti, molto credibile È credibile, è una capra Ma quella capra Ma che stanza avete preso? Una doppia deluxe Hai capito quanto costa a notte? 400 euro E secondo voi un paperone da 4 miliardi di dollari Dorme in questa cameraccia doppia con il suo bodyguard? Ma io ce l'avevo detto Era una camera troppo modesta Io al direttore di banca gli ho detto che dormivi nella suite presidenziale Hai capito quanto costa la suite presidenziale? A parte che è impegnata dallo ceicco 12 mila euro a notte Andiamo fuori budget Bisogna fare un mutuo Eh, vabbè Ma se dobbiamo fare la truffa pizza e fighi Lasciamo perdere Scusate Volevo preparare per la notte Signora Lia Colonnello Ma che cosa ci fa qui? Sono venuto a trovare dei miei amici Rosse Ah, buongiorno signora Lia Buongiorno Da niente Ma che stai? E questo stai E io Io e la signora Lia Ci troviamo ogni tanto Una sala bingo Sì, magari ogni tanto Tutte le sere No, no, no Ah, che stai fai la sera quando porti il cane giù? Perciò non viene più Vai giù con un bingo Speri che a me non vici qualcosa No, no, no Io e il colonnello No, no, non vinciamo mai Siamo dei perdenti nati Ma lo sa che l'altra sera Dopo che lei se n'è andata Mi sono rovinata Caporetto Eh no Sono giocata il prossimo stipendio Vabbè, scusate tanto E tolgo il disturbo Aspetti un attimo signora Lia Sì Quanto costa una cartella bingo? Ah, un euro Ci sono 500 cartelle per lei Cosa volete che faccia? In questo momento La suite presidenziale È occupata dallo sceicco Giusto? Sì, giusto E questo sceicco uscirà qualche volta dall'albergo? Certo che esce Tutti i pomeriggi va con le mogli a fare shopping Dalle 4 alle 6 Quindi dalle 4 alle 6 la stanza è vuota? Sì Momentaneamente sì Quindi momentaneamente noi ci fittiamo la suite presidenziale con il 500 cartelle Cosa, cosa? Potrebbero rifarci la stanza per domani pomeriggio alle 4 in punto Ma siete mati? No, siamo soci Soci? Ma colonnello? Beh, è un giochetto Solo per mezz'ora? No, non me la sento È troppo rischioso Signora Lì, pensateci bene 500 cartelle Non so poco bingo No, non posso rischiare Lei prende le cartelle E noi facciamo bingo No 500 1000 1000 cartelle E ci sto Buongiorno 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 a lei Buongiorno signorina Rossi Salve direttore Ho appena parlato con Igor Ci aspetta nella suite presidenziale Io la ringrazio per aver organizzato questo appuntamento Ma si figuri Sono sicura che tra di voi può nascere qualcosa di interessante Anche per me Sa, va a san dire Come? Eh, niente, stia tranquilla Eccolo in fondo Bellissimo Buongiorno Vladimir Buongiorno Il dottor Silvestri ha appuntamento con l'ingegnere Buongiorno Buongiorno Un momento Io bodyguard A posto Andiamo Un momento Io bodyguard Vogliamo andare? Sì Accidenti che appartamento Ne avevo sentito parlare È una vera reggia Lo sa quanto costa a notte? 12.000 euro Più IV Ah però Vedo che l'ingegnere Ha fatto un po' di shopping Regalucci Sa, Igor è molto generoso Oh buongiorno Coniglietta Igor ti presento il dottor Silvestri della banca milanese Ma molto piacere Silvestri Piacere mio ingegnere Possiamo offrirle un frutto? Sì, grazie Dai Silvestri Vieni a fare bagno No, no, no Io la ringrazio ma non posso Tu come gatto Silvestri Paura di acqua E allora vieni tu coniglietta Sì, la coniglietta nuota All'anno mio San Pietro Burgo Che piezzo di coniglia acquatica Vieni coniglietta Vieni a fare cicchicciacche conigliori in acqua Coniglietta quanta carne Carne tenera E smettila con queste mani Il direttore è venuto per parlare d'affari Va bene, va bene Allora io andare subito sotto Silvestro, tu tifoso milanista? No, veramente interista Allora io dare a te buona notizia Sono venuto in Italia Per portare mia squadra Dinamo Gioiello rosso e nero Andrei Fercenco Minchia E Gagliani glielo vende? Da, da, mu da, mu da Preliminario accordo già affermato Tutto sicuro Tutto segreto 50 milioni di euro Porca paletta Pagamento tutto nero Io trasferisco i soldi in Italia Da isole Caiman Conosce? Chi non conosce le isole Caiman Il famoso paradiso fiscale dei Caraibi Su quale banca io trasferire soldi nero di Caiman? Sulla mia E su quale conto? Su quello della signorina Maria Rossi Così non lasciamo traccia Mi sembra perfetto Sì, Riestro Ma tu ti è una capatanda Tu molto intelligente Sai che portare in tua piccola banca 50 milioni di euro Tu farei grande carriera Beh, speriamo Mamma mia Allora alla nostra Lo ceicco Lo ceicco E nella hall sta salendo Mamma rogarmi Mamma rogarmi Mamma rogarmi Com'è possibile? Appuntamento ceicco Petroli era alle 6 No a 5 Ho capito Ma sta venendo su Lei non si preoccupi ingegnere Tanto ormai noi ci siamo già detti tutto Io tolgo il disturbo E siamo d'accordo D'accordissimo Platini Mi accompagno urgentemente Silvestro che è urgente Che è della casa Compagna Vieni con me Silvestro Ti accompagno Mamma mia Da disgraziati Lavativi Anche il bagno L'avete fatto Guarda che Oddio mio Non hai lavati Mi dia una mano Non ci perde il posto Quante merito Dove è il mio vestito? Dove è già in sé il mio vestito? Ma cosa ne so Dove è il vestito adesso? Eccoli Dai, dai Muovetevi Avanti Forza Sbrigatevi Fate presto Via, via, via Rigossa, rigossa Su Cosa affetta Su Senti 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 Una Senti 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 Che Chico E' un po' il messaggio. E' un po' il salone. Tanti auguri da parte della direzione dell'Alberti. Voglio aggradire sua altezza a questo modesto omaggio a Floreali. Oggi non è il mio compleanno. Davvero? Dice che no. Sarà stato sicuramente un errore del computer, pure ci riportava la data di oggi. Apprezzo comunque il gesto. Bene, allora noi togliamo il disturbo, eh? Andiamo e la lasciamo. Correggeremo la data. Arrivederci. La signorina chi è? Chi è? E' un altro gentile omaggio della direzione. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Hai visto che abbiamo sbagliato giorno? Sarà per la prossima volta. Quando torno a Milano senza moglie il regalo glielo faccio io. Va bene. Monica, se va male la truffa sei sistemata. Vabbiamo. Ma che fai, Rubi? No, gli ho lasciato il mio. Siamo uno pari. Sì, ne piglio una mia moglie che dici se ne accorge. E' bravo Fabio. La soluzione è geniale. Non era mica facile sgattaiolare da quella suite. In effetti io non sono sgattaiolato dalla suite perché non sono mai entrato. Il merito va a loro. Hanno fatto tutto quanto gli altri. Eh, ma gli altri li ha scelti lenti. Si ricordi una cosa? Che un buon generale si riconosce sempre dai propri attendenti. E in questo caso i suoi attendenti si sono comportati alla grande. Complimenti generale. La ringrazio per l'accostamento ma complimenti a lei per i suoi quadri veri e falsi. Ah, Robetta. Comunque se io credo che siamo a buon punto. Eh sì. La prima fase è praticamente archiviata. Il direttore della banca è ufficialmente a bocca. Possiamo passare alla fase 2. Ecco qua. Questi sono 15 mila euro. Non c'è bisogno di contarli. La seconda tranche dell'operazione Cayman. Vuole una ricevuta? Sulla parola. Ma neanche una grappetta. Ah, la grappetta. La grappetta al peperoncino. Ottima. La ringrazia tantissimo anche mia moglie. Eh, ci credo. A proposito, ma chi ci mandate ai Caraibi? La nostra New Entry. Colonello Leonardo Crisapulli. Uno con la gamba offesa, eh. Un colonnello vero. Non si butti giù. Anche lei ha le sue belle mostrine. Inizia a sentir male. Le Cayman. Viene meglio quel peperoncino? Cayman. Cayman. Ghiacchino. C'è un buon lavoro che mi ha chiesto. È un buon lavoro che mi ha chiesto aiuto. È un buon lavoro che mi ha chiesto aiuto. Grazie. Ehi Nicola, si sono arrivato, tutto bene, tutto bene, qua fa un caldo, guarda mi hanno dato una bellissima camera, vedo il mare, come non te ne frega niente? I soldi, ah i soldi, no no no, non li ho ancora fessati, papà ti avevo detto, aspetta se non mi fai finire di parlare, non li ho fessati perché qua oggi è la festa delle banche, e allora? Come allora? E allora vado domani, apro il conto e li verso, Nicola deve stare cianquillo, cianquillissimo, i soldi i nostri, i soldi li ho messi nella cassa potta della mia stanza, capito? Tutto sotto controllo, ciao eh, ciao, saluto a tutti, a tutti quanti, ciao, senza altro, e allora? Tutto bene, tutto bene, tutto secondo i piani Perfetto, a questo punto Monica può fissare l'appuntamento col direttore, ed in tale occasione Rabinovic gli comunicherà di aver trasferito i 50 milioni di euro dalle Caiman Scusate, ma io ancora non ho capito una cosa, se al colonnello abbiamo dato da versare i 5 mila euro, per quale tipo di magia riescono a diventare 50 milioni? Che fa la moltiplicazione dei pane e dei pesci? Un meccanismo legato ai programmi bancari del computer, boh, a me lo potete spiegare, fino a domani non lo capirò mai, perché a me è proprio un computer che è arabo, non capisca C'è il problema, vado a rispiegare con calma Il colonnello apre un conto presso la National Caiman Bank, versa i nostri 5 mila euro e ne ordina l'immediato trasferimento presso la banca milanese sul conto di Maria Rossi Il mio? Ma se me ne manda 5 mila, ne arriveranno 5 mila? E la talpa in banca che ci sta a fare, secondo voi? Ma qual è la talpa? Mi piazzo davanti al mio computer ed aspetto di visualizzare il momento esatto in cui arriva l'accredito dalle Caiman La cifra esatta dell'accredito mi lampeggerà solo per un secondo, giusto il tempo che il sistema di controllo certifichi e verifichi l'autenticità della banca emittente Cioè in parole povere che i soldi arrivano proprio dalla National Caiman Bank, attaccato anche la pronuncia Direttamente dalle mani di mio socio? Perfetto Che cosa succede esattamente nel momento in cui lampeggia la cifra? Dunque se in quell'attimo io sarò riuscito a cambiare la cifra aggiungendo 4 zeri, i nostri 5 mila euro come d'incanto diventeranno 50 milioni Bravo! Ma davvero è così semplice come dici? Se ci riesco sì, altrimenti ha già fatto una figura di niente esagerata Oh Gesù, e la banca non se ne accorge? Solo il giorno dopo Ah, ma per quello che dobbiamo fare noi basterà che quei milioni virtuali siano sul conto di Monica solo per poche ore Ci sono domande? Ma se la banca se ne accorge, oltre alla brutta figura, facciamo molti anni di galera? Altre domande di incoraggiamento? A me lo guardo Ah però, che barco macchine Quello è il giocattolino che usa Igor quando viene a Milano Ma lui è socio di questo circolo Dove c'è un club per miliard anni? Stia sicuro che lui è socio In tutto il mondo Minchia Cioè, volevo dire, per barco Oh, ma che cazzo fai? Sì, ma alzati Bentornata signorina Salve Mi aspetti qui, metto una firmetta anche per lì Certo E' un pezzo che non la vediamo Anche il signor Roberto, ultimamente viene poco Eh sì, sta sempre in ufficio, ha tanto da fare Ah, grazie Va bene così? Certo Prego, da questa parte Dopo di lei Bravo Bel colpo Benvenuto Silvestro Buongiorno Sono distrutto Fatto 18 bucche Portuso E stanotte 4 con Maria Ma te coniglietto che dici? Troia Madonna Che schifo Roberto Lascia che ti spieghi Ma cosa vuoi spiegare? E' tutto così chiaro? No, aspetta No, aspetta Roberto Fratello di Maria Geloso Moralista Non approva stile O di vita di Maria E beh, italiano E' italiano Bravo Silvia, si è italiano di stretto mentalità Roberto, aspetta Non è come sembra Ti seguo da una settimana Che tristezza Entri e esci dai grandi alberghi Adesso mi sputa neanche qui nel mio circolo Ma no, recita un ruolo Sì Quello della mantenuta del mafioso russo Sì, ma ho fatto un giuramento Non posso dirti perché Te lo dico io perché Perché io non ho più un centesimo E ti sei trovata subito un rimpiazzo Ma no, tutto questo lo sto facendo anche per te Grazie Non ti disturbare Addio Ma no, Roberto, aspetta No, però, ma ti stai qua, dove vai? A raccontargli la verità Capisci che mi ha lasciata? Ma sei pazza Vuoi far saltare tutto così? Basta, ho fatto male ad accettare Per colpo a vostro Ho rovinato una bellissima storia d'amore Eeeh A parte che appena il tipo Gli porta a casa i soldi del colpo Ti perdona di sicuro Dai, non fare così Signorina Maria Rossi Tranquilla Scusatemi Vieni Maria, vieni Allora si è calmato tuo fratello Mio fratello? Fratello Roberto Geloso Ah, già, mio fratello Sì, più o meno Ah, tutto tranquillo Stavo dicendo al dottor Silvestro Che ho dato ordine mia a Banca di Caimane Di trasferire 50 milioni di euro Sul tuo conto E tutto questo grazie a lei Ma non è contenta? Ah sì, contenta, contentissima Lei contenta, prosit Nicola, sono Fabio Che sta facendo tuo suocero? La banca chiude fra un'ora L'accredito non è ancora arrivato Ma come non è ancora arrivato? Vabbè, lo chiamo e ci richiamo, va? Caminze, mio suocero Senti, parte, ti dispiace? Sì, sì, sono il tuo, ma è finito il credito Le faccio una chiamata a mio socio Pronto? Uè, c'è una gola Il trasferimento? No, ancora non l'ho fatto E quando lo fai? Mai, perché i soldi non ci sono più Ma che te li hanno fregati? Eh, in un certo senso sì 17 volte di fila il nero Qua ci deve essere qualche trucco No, se li hai giocati al casino Ma tutti se li hai giocati? Eh, tutti Anzi, mandatemi un accredito Perché io devo pagare la bego Sto pirla, di vedere al bego si è giocato Papà, lo capisci che hai combinato? Tutta colpa della festa delle banche Ma che cosa deve fare un povero uomo Con i soldi in mano in un'isola Che pullola di casino? Andate a prenderla Eh, buono, perla Eh Erano soldi miei che devo restituire Che vi ho dato per farvi arricchire Con quale diritto tuo suocero Se li hai giocati al casino Ah, Fabio, ti prego, non infierire, eh Più che altro mi dispiace per te Hai anche fatto l'ipoteca sulla casa Non è un bambino Tiene quasi 60 anni Aspetta Papà, che c'è ancora? Avevo un'ultima monetina L'ho infilata in una slot E senti, senti che musica Ho fatto jackpot 12.000 dollari Puri i soldi dell'albergo Entra il grande Ha recuperato tutto Oh, stammi a sentire Tu adesso vai subito in banca A fare l'accredito, ok? Ma quale banca? Qua siamo in chiusura Non se ne fa niente per oggi Le mandiamo a domani Ma tu si pazza E gli lasciamo i soldi in mano Questo? Da qui a domani mattina Se li gioca tutti Ma non fotte niente Banca chiude fra dieci minuti Se fai il versamento adesso Chi rimane al computer Per cambiare la cifra? Tu! Ti fai chiudere dentro, no? A domani dentro A domani Pronto? Senti Visto che stasera hai invitato i Galbusera Ma chi è? Ma come chi è? Sono Emma, no? I Galbusera? Ma chi sono? Ma come chi... Ma ti sei dimenticato Lo sapevo Vabbè, comunque non importa Senti, passa dal vinaio a prendere magari Due bottiglie di rosso Eh? Cosa dici? Non spendere tanto Perché tanto quei Galbusera Non ne vale la pena Hai sentito? Emma, io dal vinaio non ci vado Perché a casa non ci torno Né stanotte Né per cena Né mai Mettiti a sedere Eh, l'ho già fatto Perché, scusa? Cioè, non ho capito Perché... Ma perché? È un'altra donna? Ma che un'altra? Pur volendo non io ho il tempo Che stanotte devo fare una cosa Importantissima e difficilissima Ma cosa? Ti dimostrerò che non sono Quell'inetto che pensi tu La nostra vita dopo stanotte Cambierà da così a così Mi dispiace che non puoi vedere Il gesto della mia mano Ma poi capirai Per favore non mi richiamare Adesso riattacco Non posso distrarmi Passo e chiudo Scusa, ma è Galbusera? Ma chi se ne fotte È Galbusera! Giacomino? Alzati Andiamo a comprare il vino I compiti? Ma chi se ne fotte Dei compiti? Do you want to give a codename To your new banking account, please? Certamente, Giovanotto Il codice è Jackpot Aspira Jackpot, ok Ok Devo firmare Molto bene, Giovanotto Adesso io devo fare Una operazione Now I like To make In transaction Devo trasferire I trust him 5,000 euro 5,000 euro O Milano Bank In una banca di donna Ok? And to who exactly You want to transfer that? Non it Venta, venta Scriva On Miss Maria Rossis Build Banca Milanese Scrive Scrive Fatto Grande Fabio È un momento sì Mi è riuscito anche a solitario Sì Ma è difficile Comincia adesso però Prego Buongiorno Dottore, buongiorno Ah, buongiorno Di Nardo Sì? Ma che si fa crescere la barba? Ah, la barba Cioè riposare un giorno alla settimana Ah, ecco Allora la faccia riposare la domenica Senz'altro Buongiorno Silvestro Ingegner Rabinovic Questo tuo regno Gatto Silvestro Ah, ma che sorpresa A quest'ora Signorina Rossi Direttore Io ho grande urgenza Di parlare con te Allora prego Venite nel mio ufficio Tu fatta barba Questa mattina alle sette Chiamato me procuratore Di grande Campione Sfier 5 Finalmente È lui pronto A chiudere Business Capiscio Io adesso Dare subito Piccolo Regalo Procuratore Lui Convinto Sceva Venire Mia squadra Dinamo Dinamo Bene 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 Allora appena arriva il trasferimento Avrà subito a disposizione i soldi Guardi che il trasferimento è già arrivato sul mio conto Controlli l'accredito Urca È vero Eccoli qua Sono arrivati 50 milioni di euro Perfetto Tu adesso prendi dal conto di Maria Due milioni e mezzo Che serve me per fare piccolo regalo procuratore Da Due milioni e mezzo di euro Certo Lui favorito me su altri grandi club concorrenti Capisci Silvestro Sì ma Purtroppo bisogna aspettare qualche giorno La valuta non è ancora disponibile Monica Maria 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 Ma chi presenti me Piccolo funzionario di niente Da Dottor Silvestro Lei mi sta deludendo Ma lo sa con chi sta trattando Eh Maria Non perdere tempo con questo piccolo uomo Chiudi conto e portiamo tutto dall'altra parte Banca più importante Banca intesa No 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 Che banca intesa Che banca intesa Parliamone un attimo Non c'è niente di parlare Silvestro O tu dai i soldi miei oggi oppure Intesa Intesi? Da E a te niente Va bene Va bene Venite alla sede centrale a mezzogiorno A costo di garantire io I soldi ci saranno Che sbrigatevi sta macchina costa 100 euro all'ora E piantala Ma capiti che stiamo per guadagnare 500.000 euro a testa La vedi questa? Voglio uscire la manacca altre tre Da lei qui Monica Mi raccomando Fabio ma che ci fai? Quei sei pazzo Troppa emozione Non ce l'ho fatta resistere Tutto a posto Tutto a posto Ma che combinato? Che l'è? Che ti hai messo in casa? Ah col bacco Col bacco? Viste nuvasi astracan sotto in coppia Ah che viste col bacco Turco Turco napoletano Non parlare napoletano Ma che ho parlato napoletano? Sente l'inflessione Ma qual'inflessione? Ma va a piacere pure tu Ma qual'lialetto? Ci mancano solo i fiori E piantatela E tu nasconditi Che se ci vedono insieme Capiscono tutto Andiamo Andiamo Sei russo? Sono russo Io amo Io amo Io amo ragazze italiane Io amo Ragazzi tazzo Secondo me c'è il resto Anche secondo me Ecco i suoi due milioni e mezzo di euro Ingegner Rabinovich Per lei abbiamo fatto Dei grossi strappi Alle regole bancarie Io ringrazio a te presidente Ma avevo grande urgenza Di questo poco 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 Un goccio di liquido Capisco per lei è poco Ma se il dottor Silvestro Non avesse garantito Solo l'importanza della sua persona Avremmo avuto difficoltà Ad anticipare una somma Tanto rilevante Silvestro Grande conoscitore di uomini Lui capisce al buolo Chi vale E chi non vale E lui vale tanto Io sicuro che Silvestro Farà grande carriera In questa banca Non c'è dubbio Grazie presidente Troppo buona E allora tutto viene Quello che finisce E viene Come dice Anzitco Proverbia In buos Puovita Veramente si dice Anche qui da noi Ingegnere Prima noi Dobbiamo avere Qualcosa in cambio Che cosa? L'assegno Per incassare i contanti Eh già Assegno Maria Fai assegno I soldi Sono sul tuo conto Adesso tu subito Maria Mi tremo un po' La mano Non capita tutti i giorni Staccare assegni così Di solito sono io Che glieli stacco Con molti zeri in meno Però Donne mai contente Gelaio Di Odessa Per noi Di Moscova E come per napoletano Sentire dialetto bergamasco Niente Capire Niente O segui La sua signora Di Odessa Arrivederci Silvestro Ingegnere Grazie Salute Signore Fai Signore Diamo Diamo un segno Dimmi solo Sì o no Sì È fatta Oh mia bella madonna Fermi tutti E te ne arresti Tutti e quattro Anche lei Venga Lei lei Anch'io Lei lei Scenda Dove andiamo Non si preoccupi Questa la prendo io Forza signora Mi lasci Troppo turco Gliel'ho detto Non c'è posto Se vuole Vengo ancora nella macchina Mi ha via a piedi Grazie Ciao ragazzi Ciao Avanti Aspettate qui Me lo sentivo Che sarebbe andata male Per colpa di questa maledetta truppa Poi mi ha perso le mie fidanzate Ora finisco anche in galera Stanno andando tutti così bene Ma come hanno fatto a beccarci Ancora non ho capito Una soffiata Di sicuro Sì ma di chi Del tuo fidanzato Per i pic Senti ho dato la mia parola Che non l'avrei parlato con nessuno E non l'ho fatto neanche col mio fidanzato Oh 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 Almeno io ho parlato E perché io Piuttosto Non sarà stato quel rincoglionito Del tuo suocero Che si è venduto alla soffiata Per giocare alle roulette Oh calma eh Su rincoglionemente Posso anche concordare con voi Ma sull'onore Non si discute Mio suocero È una persona tutto di un pezzo Chiaro? Bisogna vedere che tipo di pezzo Comunque io un'idea Me la sono fatta Sentiamola Quale? Che tu e Nicola Come russi Facevate schifo A quelli della banca Se ne sono accorti A te invece come zoccola Chissà perché Ti hanno creduto tutti Vero? Imbecille Zitti Allora Tu suocero Non è stato Il suo coso Fidanzato Non è stato Noi non l'abbiamo parlato Ma chi ha parlato? Lionello Chi? Quel conno del chirurgo No no Ma perché avrebbe dovuto Parlare Lionello? Non lo sapevate Che si sono i bastardi pentiti? Ah 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 Voi che ci fate Ci hanno detto di aspettare qua Dovete rinnovare i passaporti? Io no Non sono loro No no State tutti assieme? Siamo qua per una truffa Ah ma loro dovete andare al secondo piano Ufficio denunce Questo è l'ufficio passaporti Ah sì Al secondo piano c'è l'ufficio denunce Ci siamo stati un mese fa Sbattata Quindi se vi volete accomodare fuori Perché io qui devo chiudere Senza Comodatevi Allora possiamo uscire? Guardi Fosse per me Io la terrei anche Per tutta la notte Purtroppo non è possibile Certo Questo punto io andrei Sì Ha detto lei? Certo Scusi ma anch'io me lo posso Sì Andiamo proprio Eh andiamo Ah se no Chiudo l'ufficio denunce Secondo piano Grazie Arrivederci Ma come mai ci lasciano andare? Non l'avete capito ancora? I poliziotti che ci hanno portato qua Non erano poliziotti veri Sul serio? Eh certo Ci hanno parcheggiato Nella sala d'attese Dell'ufficio passaporti Non ci hanno preso le generalità Non ci hanno preso i documenti Ci hanno preso la valigetta Ah Quindi ci hanno bidonato Eh Andiamo al secondo piano a denunciarli Sì Che vedete non già Che ci hanno rubato i soldi Che abbiamo rubato Ma si scema Torniamo tutti a casa va? Poteva andare peggio È pazzesco È assurdo Farsi fregare come dei pivellini Da due poliziotti false Secondo me erano veri false Come i quadri che venderei Credibilissimi La macchina regolare Uniforme regolare Ci avevano pure la sirena Sopra al tetto E a un certo punto Hanno salutato a due colleghi Nel cortile E quelli cordialmente Hanno pure risposto Ma erano complici Pure loro no? Pure loro? Eh ma che cosa ci vuole A fare il poliziotto? Uno va in sartoria Si affitta una divisa Poi dà una pittata D'azzurro alla macchina Due baffettini Alla meridionale È ciò che è fatto Ma posso credere Qualcuno ha parlato sicuramente È stato qualche soffiata Ma chi ha parlato? Chi? Ma chi ne so io Mica faccio il veggente Faccio il truffatore Io i suoi soci Nemmeno li conosco Anch'io li conoscevo Che posso fare? Ho sbagliato ad arruolarli Come generale Non valgo niente Mea culpa Ho sbagliato Le restituisco i 30.000 euro Però a rate 100 euro al mese Vanno bene? Ma che cosa me ne frega A me dei soldi Non è una questione di denaro Lo capisce? Quelli mi hanno ferito Nel mio orgoglio Nel mio narcisismo Capisce? Non capisco Ma sono solidale Che posso fare? È come un ladro Che va a rubare a caso di un ladro Un truffatore truffato È assurdo Una vergogna Abbiamo fatto il possibile Ma non è stata colpa nostra Chi sarà questo? Eh questo è il controllo Ma da voto Sembra quanto sono io Mi nascondo sotto al tavolo Ma quale sotto il tavolo? Fuori di qui Fuori Non mi faccio tipo io Per la restituzione dei soldi La verità è che gli onesti Sono condannati A rimanere onesti Per tutta la vita Perché per fare i disonesti Ci vuole fantasia e vocazione E quella O ce l'hai O non ce l'hai E in un adenga Che posso fare? Certo È come chiedere a Natalpa Di fare la tigre Lei ha detto che sono Natalpa Mia madre mi chiamava Topino Ma vaffanculo Ma vaffanculo Tutto forcio Ecco qua Ecco qua Il 10% a te Il 10% a te E l'80% a me Siete stati bravissimi Ve li siete meritati Ma che fate? Non li prendete? Sono soldi vostri Dai Dottore si metta nei nostri panni Siamo due poliziotti Guadagniamo 1300 euro al mese Cosa raccontiamo alle nostre mogli Se stasera ci vedono arrivare Con più di mezzo milione di euro in tasca Che abbiamo preso 50 anni Di stipendi anticipati Non possiamo manco metterli in banca Ci beccherebbero subito Ma questo è vero Sono soldi che scottano E dovresti trovare un posto Dove nasconderli Sotto al materasso Quale materasso? Ancora col materasso Il mondo è cambiato Si è evoluto Ci sono posti ben più sicuri Dove nascondere i soldi I paradisi fiscali Dove nessuno ti chiede niente Ma sì? E come si fa? Come si fa? Se volete me ne occupo io O se vi fidate di me naturalmente Ci fidiamo Tanto se provo a fonte Ci si ricordi che siamo due poliziotti Eh Non si scherza con la polizia Taxi mister Ok Come on Come on National Cayman Bank Ok mister Ok Ok ités Ok 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 Buongiorno, signor. Buongiorno. Posso aiutare? Sì, vorrei aprire un'account. Un'account grande. Buongiorno, seguimi. Sì, questo ragazzo per il vostro aiutare. Sì, vediamo ora. Buongiorno, signor. Buongiorno. Sì, non è vero, signor. Sì, grazie. Sì, grazie molto. Buongiorno. ha 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 excellent a life savings ok 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 Voi senti solo 20 minuti. 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 Preferisco rinvestirlo su di voi, il 10%. Possiamo fare molti più soldi insieme. Che vuol dire? Che possiamo continuare ad essere soci. No, 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 mi spiace, signor Gastone. Qua già c'è andata a liscio una volta, una tantum. Per noi va bene così. Peccato. No, peccato. Perché qui siamo proprio sull'isola del tesoro. Guarda, abbiamo anche gamba di legno. È una bellissima venerdì. Dovete sapere che i più grandi ladroni del mondo hanno sepillito il loro tesoro proprio qui. Proprio qua, qua. Buon per loro. Ma noi siamo persone oneste, non ladri professionisti. Persone oneste, lo so benissimo. Infatti sto proponendo di rubare dei ladri ricchissimi per ridistribuire a dei poveri onesti come noi. Ah, come dei moderni Robin Hood. Brava. Robin Hood, l'isola del tesoro, tutti classici. Ma a voi non interessa, quindi. Scusi, signor Gastone, mi perdone, ma lei ha un piano in mente? Sì, certo. Un colpo alla Ocean's Twelve. Ocean's Twelve? Mica male, io potrei fare Giorgio Cluny. Giorgio Cluny, ma fa a me piace il tuo al massimo può fare Mario Merola. Eh, vado a te, Brad Pitt. Cominciamo a scottere. Oh, io mi prenoto per fare Giulia Robert. Sì, apri il TV umano di nuovo. Aspettatemi, io ne coppo, che faccio? Il fare il botto per i voli di gnoti. Hey, in questo mondo di ladri Noi, c'è ancora un gruppo di amici Che non si arrendono mai Hey, in questo mondo di santi Il nostro cuore è rapito da mille profeti e da quattro cantanti Noi, noi stiamo bene fra noi E ci fidiamo di noi In questo mondo di ladri Oh, 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 oh In questo mondo di eroi Oh, 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 oh Ma puoi venire con noi Noi, oh, oh, oh Hey, in questo mondo di debiti Viviamo solo di scandali E ci sposiamo le verdini Hey, hey E ti spreziamo i politici E ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo, piangiamo E poi leggiamo gli oroscopi Voi vi divertite con noi E vi rubate tra voi In questo mondo di ladri Oh, oh, oh In questo mondo di eroi Oh, oh, oh Voi siete molto importanti Oh, 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 oh Oh, 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 oh E in questo mondo di santi Il nostro cuore è rapito Da mille profeti E da quattro cantanti Noi, noi siamo bene tra noi E ci fidiamo di noi In questo mondo di ladri Oh, 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 oh In questo mondo di eroi Oh, 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 oh Ma puoi venire così Noi, oh, oh, oh In questo mondo In questo mondo di eroi In questo mondo di eroi